Bene, e adesso un'altra novità, vorrei tutti i giovanissimi, proprio i giovanissimi, quelli che sono usciti dalla scuola che abbiamo fatto st'inverno, eccoli qua, io li chiamo i Miravanelli, guardatemi signori, sono bellissimi, Davide e Nadia, Paolo Annalisa, Fabio Marta, vecchio di anno scorso, è il vecchio proprio modo di dire, Stefano, Stefania, Nicola, Natassia, Matteo, Michela, e questo è il più simpatico, venite fuori in popoli, Federico e Cinzia, gloriosa signori, sempre l'incisione dell'orchestra sangue romagnolo, eccoli qua, dimenticavo, dimenticavo Cristiano e Cristina, al centro, gloriosa, e questi sono, dove siamo con i Miravanelli, vai, dai! Buon lavoro con i giovanissimi, direttori figogliani, curiosa, ovviamente, il giro di Sardegno Romagnolo! Buon lavoro con i giovanissimi, direttori figogliani, grazie a tutti i giovanissimi, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le nuove promesse, le nuove promesse di gruppo di Pagliari, così signori ci siamo assicurati altri 20 anni di vita, la tradizione continua. Grazie ai giovani, potete uscire.